Quanto è importante per Coldiretti un evento come questo di stasera? È importantissimo, ecco perché siamo i partner di vecchia data dall'inizio, perché ci crediamo tantissimo, ogni occasione buona per promuovere l'eccellenza dell'agroalimentare. Fare il sistema, conoscersi anche tra le imprese, è fondamentale per crescere a tutto tondo con tutti i prodotti che tutti ci invidiano. Sono riduce da un viaggio a New York e ho visto quanto questi prodotti siano apprezzati, ma anche quanto siano invitati, per cui fare collaborazione, fare rete tra imprese, nel difendersi e nel collaborare tra loro credo che sia il punto di partenza per continuare a crescere e dare un futuro anche ai nostri giovani. Questo evento è aperto alla grande distribuzione ma anche alla piccola distribuzione? Sì, è aperto a tutti, dai produttori, è un ragionamento di filiera dove si parte da chi produce la materia prima, chi la trasforma e chi la commercializza. Proprio all'interno di questo concorso ci siamo conosciuti con delle imprese della distribuzione e abbiamo portato avanti dei progetti che vanno avanti ormai già da qualche anno di filiera dove garantiamo il giusto al produttore, perché il produttore non può continuare a lavorare al di sotto di quanto spende per produrre. Per cui le pratiche leali vanno attuate e bisogna dare dignità a chi produce.